Tutto pronto a Sant'Angelo Muxaro per la prima fiera agricolo agroalimentare ed industriale organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Alfano in tandem all'associazione Cocalos e ad un gruppo di artigiani e commercianti del luogo e in collaborazione con la locale Proloco, l'associazione De Martinis e il gruppo equestre Alicos. L'evento che radunerà aziende provenienti da quasi tutta l'isola prenderà il via venerdì pomeriggio e andrà avanti sino a domenica 22 settembre, una tre giorni ricca di appuntamenti artistici, musicali, degustazioni, grigliate ma anche prove in campo dei mezzi ed attrezzi agricoli all'avanguardia. Venerdì alle 15.30 sarà inaugurata la fiera agricola, industriale e agroalimentare a Sant'Angelo Muxaro. Sarà la prima fiera che si inizierà a Sant'Angelo che però ha le radici legate a una festa antica, la festa della Dolorata. Questa fiera intende far partecipare e parteciperanno moltissime aziende anche fuori dalla nostra regione Sicilia e saranno tutte aziende che porteranno e mostreranno macchine agricole dell'ultima generazione. Ci saranno delle prove in campo per cercare di stimolare e sviluppare l'agricoltura nelle nostre zone che purtroppo in questo periodo vivono momenti molto negativi. Si inizierà pure una fiera agroalimentare in cui ci sarà la degustazione dei prodotti tipici locali della nostra regione. Tutto questo sarà coronato da tre giorni intensi di feste, di musica e particolarmente interessante sarà la notte del sabato che ci sarà la notte bianca in cui ci saranno delle grigliate, della degustazione dei prodotti tipici. La regia della prima edizione della fiera Camicos che gode del patrocino della provincia regionale di Agrigento e della banca di credito cooperativo di San Biagio Platani è curata dal vice sindaco Pino Vaccaro ed inoltre l'evento comprende anche iniziative collaterali come visite guidate sia archeologiche che speleologiche, quest'ultime a cura di legambiente. Sarà organizzato insieme all'escursione presso la grotta di San D'Angelo Muxaro e saranno invitate alcune persone a scendere giù a vedere le bellezze naturali del nostro paese. Oltre a queste saranno anche le bellezze archeologiche degli scavi effettuate negli ultimi periodi affinché si possa vedere le condizioni di questi scavi e vedere la bellezza di questa archeologia nostra che purtroppo non riesce a esplodere, a far conoscere le qualità meravigliose che ci sono nel nostro paese.